Allora, innanzitutto voglio fare una premessa, perché la copertina l'avete vista tutta bella, tutti incamiciati, ho sfruttato quella di ieri perché sinceramente la faccia sorpresa L'abbiamo riciclata, è la stessa, sì, diciamoci la verità, ma stasera parliamo delle milanesi, quindi dell'Inter e del Milan, che aprono le marcature entrambi con un calcio di rigore Sì, esattamente, sia il Milan che l'Inter, i cardi da una parte e che sì dall'altra Dalla parte del Milan, se non sbaglio è stata utilizzata la VAR, se non sbaglio è stato espulso direttamente il giocatore del cotrone, me stai a far sbagliare ora a me del cotrone Ok, va bene, a certa ora ragazzi miei, e da là vabbè, parlando del Milan, è stato aperte le marcature, sono dilagati, tra l'altro le partite mancano ancora qualche minuto Mancano pochissimi minuti Finite, ma stanno 3-0 e 0-3 Sì, il problema, il problema per noi tifosi della Roma è questo, che le milanesi si stanno dimostrando comunque delle squadre abbastanza toste Sì, perché comunque il Milan, vabbè, già dai preliminari che ha fatto in Europa League, con entrambe le squadre, sia il Craiova che lo Scandiglie, come cavolo si chiama Sì, ha fatto buone prestazioni Sì, ha fatto prestazioni proprio di livello, cioè comunque l'ha surpassata Oddio col Craiova, amicata Vabbè Non tanto però parliamo di luglio, cioè quindi di conseguenza già con lo Scandiglie che ha vinto 6-0 Alazio sta ancora a 0-0, guarda Vabbè, Alazio 0-0 ancora non è finita Stasettimana la schedina ragazzi, ma tanto le prime 2-3 giornate di Serie A Io l'avevo detto, l'avevo detto De solito è sempre così, poi in teoria dovremmo imbeccare e dovremmo appunto Dovremmo prendere la mano, sì, vabbè, comunque dobbiamo conoscere squadre, dobbiamo conoscere squadre Ci vuole un po' di tempo, non è che siamo nati con la sfera, insomma 45esimo minuto, vogliamo parlare dell'Inter Fiorentina anche rapidamente? Parliamo dell'Inter Fiorentina al volo, sì, perché comunque dicevo del Milan, adesso parliamo dell'Inter E che comunque ha fatto una grande prestazione, comunque Calcio per rigore dei Cardi, poi Calcio per rigore dei Cardi, gran bel gol il secondo E poi Perisic E poi Perisic che la chiude, dopo un palo di Veretù ragazzi Che comunque ha preso, ha fatto una sassata gravurosa da fuori aria, ha preso il palo in pieno Pronostico gameplay Sfiorato Sfiorato di Veretù, esatto Tu ce lo hai, me lo hai Esatto, assolutamente, sì Come le vedi quindi ste milanesi? Come le vedi secondo te a livello di Serie A? Sai che ci abbiamo l'Inter la settimana prossima in casa all'Olimpico? Eh lo so, ho capito, per fortuna non ce l'abbiamo a San Siro Noi purtroppo la partita non è stata delle migliori Perché l'Atalanta è una squadra tosta L'ho già detto, ci ho fatto il post partita Esatto, ad andare, a riguardare Ma domani ragazzi se volete facciamo, tornerà il processo del Gabone in cui parleremo a 360 gradi Certo, ovvio Di tutte le partite che si sono giocate ma vogliamo almeno 2000 like su questo video Nel frattempo la Lazio sta a fare qualcosa che voi manco vi immaginate ma non ha segnato 2000 like sono proprio il minimo ragazzi Sono il minimo Spiccetti, perché lo vogliamo fare Assolutamente, per quello abbiamo, siamo Ci siamo tenuti bassi Esatto, solo per quello Low profile Esatto, perché vogliamo parlare di tutte le partite in generale E vi vogliamo appunto dire la nostra Fate sapere che cosa ne pensate nei commenti del Milan e dell'Inter Da Lazio, da quello che vi pare, per favore, per cortesia Lascerò un sondaggio in questo momento in cui chiederò Le milanesi sono realmente le squadre che potrebbero impensierire la Juventus e il Napoli A Roma ce la mettiamo La Roma non ce la mettiamo, no Per il momento no La Roma si deve, no confermare, però ci deve dare degli indizi Dobbiamo cercare di capire qualcosa di meglio Lasciate un bel mi piace su questo video Arriveranno tanti nuovi post partita Ma ovviamente domani arriverà il processo del Gabone E vi ripetiamo, parliamo a 360 gradi Di tutte le partite che si sono giocate Certo che si Quindi chiudi il video Commentate, condividete e iscrivetevi al canale ragazzi Ci vediamo alla prossima con un nuovo video Sperando che non ci demonetizzino Perché ci vedono mezzi nudi E quindi il coso di Youtube va a carpire Che potrebbe sembrare un film un po' sozzetto Ma così non è Non è Buonanotte ragazzi Ok, la chiudiamo qui Bella Ciao 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 Ciao